Con mister Roberto Breda, tecnico di Livorno, mister, il cuore di questa squadra non è bastato per tornare a casa almeno con un punto dalla Rechi? Capita spesso quest'anno che in ogni caso fai anche delle buone prestazioni, con personalità, con la voglia di fare anche gioco e raccogliendo poco o niente. Purtroppo se siamo ultimi certamente abbiamo dei difetti e dobbiamo fare meglio delle cose e oggi è un po' l'emblema di una gara come tante altre dove concedi delle opportunità per passare in vantaggio agli altri e poi fai fatica ad andare a recuperarli. Anche se poi come impegno, come determinazione, come vuoi di fare la partita, la partita è quella che dobbiamo fare. Una stagione un po' particolare per il Livorno, vicende societarie che forse le hanno riportato alla mente anche quanto accade a inizio carriera di allenatore a Salerno? No, il Livorno come società è solida e non c'entra niente con quella disavventura nostra perché là invece c'è una situazione veramente problematica. La colpa non è della società, è che non siamo riusciti a fare quello che volevamo. Le passo l'auricolare per le domande da studio. Mister, buonasera, do subito la parola a te Luca. Mister, buonasera, mi dispiace per il suo Livorno, questa è una sconfitta davvero amara nella sua, tra virgolette, Salerno. Chiaramente dove lei come calciatore ha avuto in Serie A grandi soddisfazioni segnando tanti gol, essendo stata anche l'allenatore di questa squadra. Chiaramente questa sconfitta come la possiamo interpretare, mister, per il suo Livorno? Cioè, significa alzare bandiera bianca oppure fino alla fine lotterete e ci crederete in questa salvezza? Che diventa sempre più difficile, chiaramente. Ma bandiera bianca no, perché anche oggi la squadra ci ha provato fino alla fine ed è un po' quello che stiamo facendo spesso, forse tranne l'unica partita che non abbiamo fatto così è l'ultima in casa col Cosenza. E quindi l'idea è di continuare così finché la matematica non ci condanna, sapendo che la squadra fa anche delle buone partite, però il problema è che non raccogliamo niente. Mister, il calendario sicuramente non facile in questo momento perché ora bisognerà andare a Verona col Chievo, sfida non semplice. Sì, anche se poi in questo momento se vogliamo fare qualcosa, però c'è ancora, c'è poco da guardare all'avversario, ma cercare di fare la gara a prescindere da chi dà in davanti. Anche oggi non era facile perché giocare qui in casa la Sanitana non è semplice. Pure la partita secondo me l'abbiamo fatta, è che continuiamo a non raccogliere niente, nonostante credo che come impegno, come atteggiamento, anche come certe cose fatte bene, qualcosa in più anche oggi potremmo raccogliere. Grazie.